RIMARRAI SORPRESO? Dio vuole che tu lo sappia oggi. Il messaggio di Dio per te. Gli angeli dicono che la casa in cui vivi ha così tanta energia positiva e divina che ha attratto Dio Onnipotente a stare con te. È un messaggio dal cuore di Dio per benedire la tua vita oggi. Ma prima di continuare, metti mi piace a questo video per raggiungere più persone. La presenza di Dio nella tua casa protegge sempre te e la tua famiglia da tutti gli spiriti maligni e negativi. Dio dice per mia grazia, ti darò i soldi di cui hai bisogno, la salute, l'amore e la vita dei tuoi sogni. Scrivi preso possesso nel nome di Gesù. Dio dice di prepararsi per grandi benedizioni finanziarie poiché i giorni brutti stanno per finire. Aprirò le cateratte del cielo e riverserò miracoli e benedizioni in misure che cambieranno la tua vita per sempre. Scrivi, Amen se credi in questa parola per ricevere questa benedizione. Devi guardare questo video fino alla fine. Stasera, mentre dormi, Dio farà un miracolo grazie al quale sarà glorioso ed eliminerà tutte le preoccupazioni finanziarie che hai nella tua vita. Dio ti sta dicendo di prepararti perché la situazione che stai vivendo non è permanente. Le benedizioni e le vittorie stanno arrivando, preparati a riceverle con grande fede e gratitudine. Dio soddisferà tutti i tuoi bisogni nel nome di Gesù, qualunque cosa tu stia affrontando. Ricorda sempre che il Signore tuo Dio è con te per combattere i tuoi nemici e darti la vittoria. La Sacra Bibbia dice che l'amore del Signore è eterno, la sua misericordia dura in eterno, la sua fedeltà dura per tutte le generazioni. Ogni mattina la sua bontà si rinnova e il suo amore non finisce mai. Scrivi, Grazie Gesù per il tuo amore. Mio amato figlio, confida pienamente nel tuo futuro e dovresti essere grato per le benedizioni che sono già state riversate sulla tua vita. Ti guiderò meravigliosamente e camminerai nella vittoria. I prossimi giorni saranno pieni di buone notizie, preghiere esaudite e miracoli. Dio sta togliendo il tuo dolore, le tue preoccupazioni e i tuoi problemi e li sostituirà con buona salute, felicità e pace eterna. Dio sta apportando grandi cambiamenti nella tua vita, sta cambiando la tua cartella clinica perché ha già benedetto la tua salute. Dio è con te nel tuo viaggio, non importa chi è contro di te. Gli angeli del Signore si accampano attorno alla tua vita e alla tua famiglia. Scrivi, Credo, se ti fidi degli angeli di Dio. Dio può cambiare le cose immediatamente per te. I miracoli accadono ogni secondo e in ogni momento. I miracoli sono reali, credi con tutto il cuore. Dio ha sempre uno scopo per la tua vita, può trasformare la tua vita come ha fatto con la mia. Devi solo riporre tutta la tua fede e fiducia in Lui. Scrivi che la mia fede è al 100% in Dio e incidila nel tuo cuore. Gesù dice, Ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per molto tempo nella tua vita. Ringraziamo Dio perché ci dà sempre la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Ho bisogno di Dio ogni giorno in ogni momento, ogni secondo che respiro. Stai entrando in un nuovo potente capitolo della tua vita. I tuoi sogni diventeranno realtà e le tue benedizioni si moltiplicheranno. Sono un Dio di miracoli e voglio che tu sperimenti le mie benedizioni nella tua vita. Sai che non sei mai solo perché sono sempre con te guidandoti in ogni passo del cammino. Ti amo figlio mio e sarò sempre qui per aiutarti, scrivi Ti amo anch'io mio Dio. Dio conosce il momento giusto nel posto giusto, la persona giusta e la risposta giusta alle tue preghiere. Ci sarà un momento in cui piangerai di gioia, perché Dio avrà risposto a tutte le tue preghiere e condividerai la buona notizia. Ti ringrazio Signore Gesù perché so che sei sempre con me, anche quando le difficoltà cercano di soffocare la mia fede. Beato Te. Amen. Rimarrai sorpreso? Dio vuole che tu lo sappia oggi. Il messaggio di Dio per te. Gli angeli dicono che la casa in cui vivi ha così tanta energia positiva e divina che ha attratto Dio Onnipotente a stare con te. È un messaggio dal cuore di Dio per benedire la tua vita oggi. Ma prima di continuare, metti mi piace a questo video per raggiungere più persone. La presenza di Dio nella tua casa protegge sempre te e la tua famiglia da tutti gli spiriti maligni e negativi. Dio dice per mia grazia, ti darò i soldi di cui hai bisogno, la salute, l'amore e la vita dei tuoi sogni. Dio dice di prepararsi per grandi benedizioni finanziarie poiché i giorni brutti stanno per finire. Aprirò le cateratte del cielo e riverserò miracoli e benedizioni in misure che cambieranno la tua vita per sempre. Scrivi, Amen se credi in questa parola per ricevere questa benedizione. Devi guardare questo video fino alla fine. Stasera, mentre dormi, Dio farà un miracolo grazie al quale sarà glorioso ed eliminerà tutte le preoccupazioni finanziarie che hai nella tua vita. Dio ti sta dicendo di prepararti perché la situazione che stai vivendo non è permanente. Le benedizioni e le vittorie stanno arrivando, preparati a riceverle con grande fede e gratitudine. Dio soddisferà tutti i tuoi bisogni nel nome di Gesù, qualunque cosa tu stia affrontando. Ricorda sempre che il Signore tuo Dio è con te per combattere i tuoi nemici e darti la vittoria. La Sacra Bibbia dice che l'amore del Signore è eterno, la sua misericordia dura in eterno, la sua fedeltà dura per tutte le generazioni. Ogni mattina la sua bontà si rinnova e il suo amore non finisce mai. Scrivi, grazie Gesù per il tuo amore. Mio amato figlio, confida pienamente nel tuo futuro e dovresti essere grato per le benedizioni che sono già state riversate sulla tua vita. Ti guiderò meravigliosamente e camminerai nella vittoria. I prossimi giorni saranno pieni di buone notizie, preghiere esaudite e miracoli. Dio sta togliendo il tuo dolore, le tue preoccupazioni e i tuoi problemi e li sostituirà con buona salute, felicità e pace eterna. Dio sta apportando grandi cambiamenti nella tua vita, sta cambiando la tua cartella clinica perché ha già benedetto la tua salute. Dio è con te nel tuo viaggio, non importa chi è contro di te. Gli angeli del Signore si accampano attorno alla tua vita e alla tua famiglia. Scrivi, credo, se ti fidi degli angeli di Dio. Dio può cambiare le cose immediatamente per te. I miracoli accadono ogni secondo e in ogni momento. I miracoli sono reali, credi con tutto il cuore. Dio ha sempre uno scopo per la tua vita, può trasformare la tua vita come ha fatto con la mia. Devi solo riporre tutta la tua fede e fiducia in Lui. Scrivi che la mia fede è al 100% in Dio e incidila nel tuo cuore. Gesù dice, ti aprirò le porte che sono rimaste chiuse per molto tempo nella tua vita. Ringraziamo Dio perché ci dà sempre la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Ho bisogno di Dio ogni giorno in ogni momento, ogni secondo che respiro. Stai entrando in un nuovo potente capitolo della tua vita. I tuoi sogni diventeranno realtà e le tue benedizioni si moltiplicheranno. Sono un Dio di miracoli e voglio che tu sperimenti le mie benedizioni nella tua vita. Sai che non sei mai solo perché sono sempre con te guidandoti in ogni passo del cammino. Ti amo figlio mio e sarò sempre qui per aiutarti, scrivi ti amo anch'io mio Dio. Dio conosce il momento giusto nel posto giusto, la persona giusta e la risposta giusta alle tue preghiere. Ci sarà un momento in cui piangerai di gioia, perché Dio avrà risposto a tutte le tue preghiere e condividerai la buona notizia. Ti ringrazio Signore Gesù perché so che sei sempre con me, anche quando le difficoltà cercano di soffocare la mia fede. Beato te. Amen. Beato te. 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 Beato te.